Il reparto di chirurgia dell'ospedale San Salvatore da oggi è intitolato ad un autentico maestro della chirurgia, Claudio Vittorini. A vent'anni dall'improvvisa scomparsa dello stimato chirurgo che ha cresciuto generazioni di giovani medici, l'Aquila lo ha voluto ricordare con una targa che da oggi sarà fissa nel reparto, ma anche con un momento di approfondimento alla dimora del Baco, in cui si è parlato dell'evoluzione della chirurgia, anche senologica, che ha fatto passi da gigante anche con l'uso del robot da Vinci in dotazione alla ASL. Quattro figli, due chirurghi che hanno seguito le orme del padre e due architetti, con la signora Giovanna commossa nel vedere che a vent'anni l'affetto per il maestro è ancora immutato. Un'intitolazione fortemente evoluta anche dal direttore del reparto Roberto Vicentini e dal manager della ASL. Quando ricordo mio padre come chirurgo lo ricordo inflessibile in sala operatoria, preciso, pretendeva il massimo. Per quanto è arrivato abbiamo cercato in qualche modo di emularlo, di continuare quello che lui ci aveva insegnato e adesso siamo una chirurgia d'avanguardia. L'attitudine, la vocazione che l'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale San Salvatore ha, è proprio quella di esportare la sua professionalità anche negli altri ospedali della nostra provincia.